Oh, ragazzi, che ruttino bello aspetto! Terribile, ce l'ho in bocca! Un gas bello potente! Ok, il cavolo rosso gli fa gas, forse dovremmo... Dagli tutto il cavolo, lo so! Cosa? No! Sì, pensa che non tornerà tanto presto. Oh! Sembra essere una qualche forma di vita aliena, Capitano. Wow, bannicula in televisione! Sono contento per lui. Finalmente ce l'ha fatta. Uscita completata, comandante. Stiamo rientrando. Alieno! Siamo attaccati, ragazzi! Siamo attaccati! Sempre il solito. Perché non vuoi credermi? Ti sto dicendo che l'ho guardato negli occhi e lui ha guardato me, ok? Sì, sì. Oh! Oh! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Ah!'da ah! Ah ah ahha ah! Oooo! Oh! 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 Ha ha ha! Ah! Ouiie! Ah! Naaa! Oh, forte! Uno spavento coi fiocchi! Sono cosmonauta Zakharov! Sono molto emozionato di avere altro esperto spaventatore soprannaturale a bordo con me! Non ero così elettrizzato da prima di... da prima di fallire mia missione! E stare bloccato qui! Allora, che ne dici? Vuoi spaventare qualche astronauta?